Come si offre la possibilità di andare a ripetere la guerra? Di percorrere i luoghi, di conoscere quello che è accaduto oppure la memoria di queste cose prima o poi si perde, non possono essere solo i libri diciamo, sarebbe come dire che fare libri sulla grande guerra siccome i libri si vendono è una speculazione commerciale, no, i libri sono assolutamente fondamentali e anche il turismo visto come esperienza diciamo di conoscenza dei luoghi, delle situazioni, delle battaglie, delle storie perfino individuali è determinante, tanto che io penso che su questo fronte bisognerà fare molto di più nei prossimi anni così come per esempio hanno fatto i francesi che sono i più, e anche gli inglesi da un certo punto di vista, che sono i più bravi in questo tipo di situazioni. Tanto è vero che la memoria dei conflitti lì si conserva molto di più che in un paese come il nostro dove i ragazzi oggi non sanno assolutamente nulla, mentre portare per esempio i ragazzi a visitare questi luoghi, a raccontare che dei ragazzi come loro, alla loro stessa età, hanno combattuto, sono morti, lì sono sepolti e così via, credo sia un'operazione culturale prima che turistica fondamentale. Quante persone possono essere coinvolte? Fondamentalmente si stima che ci siano in Europa circa 5 milioni di persone che vogliono vivere esperienze di conoscenza di turismo di questo genere. È una forma di turismo strano perché uno può scegliere di andare al mare a grado, per parlare di uno dei luoghi qui vicini, e poi di andare a visitare Redi Puglia, ma il fatto di poter andare a visitare Redi Puglia è strettamente collegato alla scelta poi di andare a divertirsi a grado. 5 milioni, qualcuno può dire una cifra esagerata, ma faccio solo un esempio, siccome non c'è la biglietteria su questi luoghi e ne ci deve essere, però per esempio ci dicono che sul Pasubio, che è una delle montagne del Vicentino dove molto si è combattuto, passino circa 40 mila turisti all'anno. E questo lo sappiamo non appunto dalle biglietterie, ma dai bar locali che ci dicono quanto pubblico si muove. L'idea è anche quella di passare da questa operazione frammentata, individuale, alla capacità di offrire al pubblico una visione ampia e quindi di costruire dei percorsi che vadano per quello che riguarda il fronte che ha coinvolto l'Italia e i paesi limitrofi dalla Coglio, dalla Carso fino alla Lombardia, passando per il Grappa, per l'Altipiano di Asiago, per il Pasubio, per Vittorio Veneto per le montagne Trentine, appunto fino alla Damello. Allora se si ha la capacità di proporre questa cosa insieme come un unico grande percorso, ecco che allora anche a livello europeo, come dire, può adestarsi l'interesse per conoscere meglio questi luoghi perché sicuramente uno straniero, diciamo, di certo non parte per venire a vedere una singola cosa. Questo fatto di legare paesi, diciamo, diversi che si sono combattuti è proprio, come dire, fondamentale in questo tipo di operazione perché non c'è una storia. Probabilmente noi dovremmo raccontare più storie perché sono storie diverse, viste da punti di vista diversi oppure in luoghi come questi, storie che addirittura sono paradossali perché uno nasceva combattendo con un esercito e finiva la guerra combattendo con l'esercito teoricamente avversario. E quindi l'idea di una borsa europea del turismo nella Grande Guerra è proprio l'idea di far incontrare quanti hanno combattuto e permettere appunto al turista culturale evoluto di andare a conoscere tutte le sfaccettature ed evitare questi patriottismi, diciamo, sbagliati, non perché magari non bisogna essere patriottici, lo si può essere, ma su cose un po' diverse che non temi come quelle della guerra. E credo che sia molto utile perché per una generazione come la nostra, che non ha visto e non sa che cosa sia il conflitto, da questo punto di vista i conflitti sono molto utili anche per prendere le misure, no? Siamo spesso infelici, ci lamentiamo, eccetera, eccetera. Se ci facciamo raccontare di quegli anni lì non possiamo fare altro che gioire. Poi certo bisogna migliorare e allora sapere, come dire, non che era la persona di duemila anni fa che ha vissuto quelle situazioni, ma che l'ha vissuto il nonno, il bisnonno e così via, te la fa, come dire, percepire con maggiore forza. Credo che questo debba essere lo sforzo che dobbiamo fare. Grazie a tutti.